Una giornata da venditore porta a porta di folletto. Guadagno fino a 10.000 euro al mese. Ma a un collega mostrarono una pistola, l'arte, trasformare i no in sì. L'obiettivo è superare il citofono e arrivare al salotto. Chiedere 100 per ottenere 1. 2. Se proprio va bene. Tra i rappresentanti del folletto la regola aurea si sussurra che sia quella delle 3 M, moglie, marito e materasso. Devono essere tutti presenti per riuscire a vendere e, se il terzo di solito non si assenta mai, trovare in simultanea i primi due è affare più complicato. Ma indispensabile, almeno se di mestiere fai il rappresentante porta a porta. Bisogna convincere sia lui che lei. Nessuno si prenderà mai la briga di decidere da solo, pena dramma in famiglia. E il materasso, quello serve per la dimostrazione. Ecco, la dimostrazione, è lei la chiave per instillare un bisogno che non c'è e per ammantare un aspirapolvere del fascino del sogno proibito. Per assicurarsi lo stipendio occorre farne almeno 3 al giorno. Perché 1 su 3 compra di sicuro. La dunata è alle 9.30 al bar di Rho, dove siedono 7 dei 250 rappresentanti forwerk della zona di Milano. La missione è quella di concludere almeno 40 contratti al mese. E il calcolo giornaliero è presto fatto. Aghindato in un completo color muschio, l'immagine è fondamentale, il capozona Piero Cotto, anni 32, sardo di Ololai, 1100 anime nel Nuorese, interroga i colleghi sugli obiettivi del giorno e della settimana. Liuba Ignatov, in azienda da 3 mesi, aspira a fissare 10 appuntamenti in 7 giorni. Per Maria Screnci, ex sarta, 6 anni di esperienza e migliaia di apparecchi venduti, l'asticella è più alta, almeno 40. Lui, Cotto, di apparecchi ne ha venduti più di 2000. Mi occupavo di cavalli. Un amico mi suggerì di tentare qui, racconta, ero scettico. Pensavo di limitarmi a una prova. Il primo mese vendetti 42 apparecchi, il secondo, 50. Mia moglie minacciò il divorzio se non avessi continuato. Guadagni, anche 10.000 euro al mese. Ma se non vendi non mangi. Gli appuntamenti, beninteso, non si prendono al telefono. Il Folletto la scopa elettrica tedesca nata nel 1930 con il motore di un grammofono assurda sistema di pulizia e alle cui vendite il mercato italiano contribuisce per più del 50% si vende solo porta a porta. E allora? Quando le righe si rompono e il gruppo si sguinzaglia per le vie di Interland e provincia, il primo nemico è il citofono. Partenza da Casnate con Bernate. Nel Comasco, zona alta, chiosa il capodistretto Alex Sampirisi in Forwerk da 20 anni e per una decade tra i primi dieci venditori d'Italia. L'altitudine non c'entra. Qui a salire è la capacità di spesa. Ma paradossalmente lavoriamo meglio in zone più popolari. Gli altospendenti di solito fanno venire a casa gli addetti e non si occupano direttamente delle pulizie. E convincerli diventa un'impresa. L'eccezione era Silvio Berlusconi, che, oltre a essere grande intenditore degli apparecchi dell'Indo, raccontava di avere affiancato agli innumerevoli mestieri di gioventù anche la rappresentanza di aspirapolveri, era nostro cliente certificato e sosteneva di aver lavorato per noi negli anni 50, gli abbiamo spedito la spilla celebrativa dei mille apparecchi venduti in carriera. Il giro a inizio è cotto, anfitrione di giornata, evita accuratamente i palazzi con portineria. In quelli ci si presenta nel primo pomeriggio, quando il custode è a pranzo spiega, il portiere è un'arma a doppio taglio, a volte può diventare un alleato ma spesso è uno scoglio insormontabile. E, allora, meglio non rischiare. Di gente a casa a quest'ora ce n'è poca, e quella poca è diffidente. Se il citofono di solito non rappresenta un problema, la barriera del campanello risulta assai più ostica da aggirare. Salve buongiorno, sono un rappresentante Forwerk, l'esordio di rito. Di chi? La maschera a questo punto viene gettata. Folletto qualifica che ha più d'uno dietro allo spioncino riporta alla mente l'insistenza dei testimoni di Geova. Non mi serve, il ritornello. Ma certo, se le fosse servito ci avrebbe chiamato lei, la risposta di rimando non siamo qui per vendere. In effetti siamo qui per, in ordine sparso, lasciare un questionario, offrire un servizio di pulizia gratuito, fare un sondaggio sui prodotti per la casa, secondo il campionario dell'inventiva. Solo una porta su cinque si apre, e l'inquilino puntualmente non è interessato. A quel punto si finge arrendevolezza, si ringrazia lo stesso e si augura buona giornata, salvo poi tornare al punto di partenza come il tenente Colombo quando sta per abbandonare la scena del crimine a mani vuote prima di voltarsi per un'ultima domanda. Lei cosa usa per i pavimenti? Alla risposta, mocio e secchio, il più è fatto. Ci si china sull'uscio e, brandendo un panno in microfibra, si dimostra la presunta inefficienza dei sistemi di pulizia tradizionali. A quel punto si chiede di passare nel pomeriggio per un paio di informazioni, non prima di aver domandato di potersi appoggiare per appuntare in agenda il nome della via. È fondamentale riuscire a entrare in casa. Anche solo varcare la soglia. Si supera la barriera dell'intimità e ci si riesce a fare un'idea di massima dell'ambiente e della personalità del cliente. Quadri, mobili, libri, tutto è un pretesto di conversazione. Istruisce il venditore. Improvvisato si è esperto di legal thriller alla vista di una collezione di libri di John Grisham, se vedi lo scudetto del Milan alla parete dirai di essere rossonero anche tu, anche se ti fii inter. Concavi o convessi a seconda delle circostanze. Di primo acchito, il no è la regola. Ma lo mettiamo in preventivo, lavoriamo su quel no perché diventi un ni, e alla fine un sì. Requisiti indispensabili, tenacia e pazienza. La prima, perché i campanelli a cui suonare prima di ottenere udienza possono essere anche più di cento, la seconda perché è necessario mantenere l'aplomb anche quando si viene mandati a quel paese, e non succede di rado. Spesso ci guardano come dei delinquenti, ma non capiscono che stiamo semplicemente lavorando. A un certo punto la tensione sembra salire, faccio chiamare la polizia, minaccia un condomino. Ma questo è niente. A un nostro collega una volta mostrarono una pistola rievoca cotto. Per evitare la denuncia il malcapitato acquistò due apparecchi completi. Extra giudiziale sui generis. A metà mattinata finalmente si riescono a fissare due appuntamenti per il pomeriggio. La signora Grazia è già cliente. Sarebbe tentata di regalare il nuovo modello al figlio per Natale vista l'insistenza della nuora. Ma alla fine desiste, non prima di aver messo a disposizione caramelle rossane e galatine. Tal Sonia invece si è sposata da poco e utilizza un modello della concorrenza. Si tenta di proporre la dimostrazione, ma la fretta della padrona di casa è, soprattutto, la diffidenza di Attila, pastore maremmano di guardia, buonissimo, ma un filo territoriale ammette la proprietaria, impongono di arrendersi. Si prende nota dei nominativi degli assenti, di modo che si possa fare un nuovo tentativo l'indomani. A ora di pranzo il gruppo si ritrova in trattoria per fare il punto della situazione. Francesco Deodato, rappresentante da 18 anni, rende conto della mattinata, ha piazzato al primo colpo la macchina per pulire gli imbottiti e la luci da pavimenti. Applauso della platea. Fare questo mestiere è come recitare a teatro. Sono timido, ma quando entro nelle case vado in scena, certo, suonare campanelli tutti i giorni alla lunga e snervante. La chiave, la dimostrazione, nel pomeriggio ci si sposta a Milano, zona Lorenteggio. Gli appuntamenti in programma sono due, si comincia dalla signora Arianna, molisana verace, dove la valigia del campionario si apre e parte la fatidica dimostrazione. Cotto rifiuta l'offerta di caffè e biscotti. In compenso domanda cortesemente pangrattato e farina. La padrona di casa è atterrita, ma il rappresentante ha la risposta pronta, devo gettarli sul pavimento, mi servono per mostrarle l'aspirapolvere. E poi ancora, ogni anno perdiamo 5 chili di pelle, signora, e dove va a finire, sul materasso. La signora non sembra di sdegnare, ma il marito non è in casa e lei deve correre a recuperare la nipote all'asilo. Promette però di interpellare il coniuge e di rifarsi viva. Mai forzare troppo in questi casi il commento altrimenti si rischia il recesso entro 14 giorni, ne arriva in media uno ogni 10 vendite. Si prosegue dai neosposi Alessia e Daniele, impiegati di banca, appena trasferitisi nella nuova casa, ancora priva di mobilio ma invasa dai giocattoli del piccolo Nicolò. Delle pulizie si occupano entrambi, conoscono il prodotto e l'acquisto della scopa e del picchio per i materassi non è mai in discussione, lei però vorrebbe anche la lavavetri, lui il robottino automatizzato. Ballano 1800 euro e l'orizzonte minaccia crisi coniugali. Cotto, salomonico, pone fine alla contesa, con queste finestre così grandi forse la lavavetri è più funzionale. Esultanza della consorte. Varcata la soglia si festeggia in silenzio, per abbandonarsi al giubilo bisogna superare il campo visivo dalla finestra. Questa è adrenalina pura, non riuscirei mai a lavorare dietro a una scrivania. Soddisfazione, fino a un certo punto, in fondo erano già sicuri di comprare, l'estasi è prendere un no categorico e farlo diventare un sia occhi chiusi. Grazie. Grazie.